Benvenuti a Telecrullis, il notiziario nella lingua dei segni, frutto della collaborazione tra l'Assemblea Legislativa dell'Umbria e l'ente nazionale Sordi, Consiglio regionale dell'Umbria. L'Assemblea Legislativa si è riunita martedì 25 maggio a Palazzo Cesaroni per discutere le interrogazioni a risposta immediata e le mozioni presentate dai consiglieri regionali. La consigliera Simona Meloni del Partito Democratico ha chiesto all'assessore regionale Roberto Morroni se la Giunta darà avvio alla programmazione dei centri estivi e quali norme intende emanare. L'assessore ha risposto che anche per il 2021 la Giunta ha previsto di riproporre la misura di sostegno per incentivare il ricorso ai centri estivi. Sono stati istanziati 2 milioni di euro che saranno ripartiti con criteri che saranno resi noti il 3 giugno. Thomas De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha chiesto chiarimenti all'assessore alla sanità Luca Coletto rispetto alle spese sostenute per le prestazioni erogate in virtù delle convenzioni stipulate tra le aziende ospedaliere e sanitari dell'Umbria e le cliniche private regionali. L'assessore ha risposto che durante la pandemia le case di cura sono state scelte come strutture non Covid perché non potevano garantire un aumento dei posti letto intensivisti e hanno svolto le attività non procrastinabili. Il costo complessivo sostenuto fino al quarto trimestre 2020 è stato di 779 mila euro per l'azienda ospedaliera di Perugia e di 169 mila euro per quella di Terni. Il consigliere regionale Vincenzo Bianconi, gruppo misto, ha interrogato l'assessore Luca Coletto circa l'attuazione della mozione presentata dal consigliere stesso in tema di assistenza ai disabili, libertà di scelta e rafforzamento del sistema di protezione sociale. L'assessore Coletto ha risposto che nel 2019 sono stati assegnati 9,8 milioni di euro alle aziende sanitarie e territoriali e ai comuni capofila a cui si aggiungono 3 milioni di euro di fondi regionali. Nel 2020 sono stati assegnati 10,6 milioni di fondi nazionali alle aziende sanitarie e territoriali e ai comuni capofila e 4,5 milioni di euro di fondi regionali. Nel 2021 sono stati assegnati fondi nazionali per 9,7 milioni di euro che saranno erogati nel 2022 a seguito della valutazione delle rendicontazioni di aziende e comuni. Michele Bettarelli e Tommaso Bori, consiglieri regionali del Partito Democratico, hanno chiesto all'assessore Luca Coletto chiarimenti in merito alla veridicità o meno della intenzione di affidare la gestione e lo sviluppo dei servizi di diagnostica per immagini e di medicina nucleare erogati all'interno dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia ad una società privata esterna. L'assessore Coletto ha risposto che non c'è stata nessuna privatizzazione e non risultano istruttori o procedimenti relativi all'affidamento di servizi di diagnostica a società esterne. Terminato il question time, l'Aula ha avviato il confronto sulle emozioni presentate dai gruppi consigliari. Risultato approvato, l'atto di indirizzo presentato dal consigliere Andrea Fora, patto civico per l'Umbria, che chiedeva alla Giunta regionale di proseguire nelle sedi istituzionali competenti il lavoro a difesa degli interessi del territorio regionale al fine di mantenere invariati i criteri di riparto del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale per gli anni 2021 e 2022, evitando una riduzione degli stanziamenti che danneggerebbe anche l'Umbria. Semaforo verde anche per la mozione dei consiglieri della Lega Paola Fioroni e Stefano Pastorelli, che impegna la Giunta a mettere in campo azioni per sostenere a livello comunitario il modello italiano di etichettatura degli alimenti e a contrastare il modello francese, ritenuto idoneo a produrre una concorrenza sleale nei confronti dei nostri produttori e salvaguardare le filiere produttive agroalimentari del nostro Paese e della nostra regione. Voto favorevole, infine, per l'atto di indirizzo dei gruppi di opposizione, che auspicava, da parte della Giunta regionale, un potenziamento dell'azione di coordinamento della regione nei confronti dei soggetti che operano nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro per affrontare quella che viene considerata una vera emergenza nazionale. È stata invece respinta la mozione della consigliera Donatella Porsi del Partito Democratico, che chiedeva alla Giunta di attivare al più presto un tavolo di confronto per pianificare azioni uniformi su tutto il territorio regionale e favorire la fruizione di spazi pubblici o in convenzione per una diversificazione delle attività, così come previste dal piano scuola per l'estate 2021. È tutto per questa edizione di Telecrullis, il notiziario nella lingua dei segni, frutto della collaborazione tra l'Assemblea legislativa dell'Umbria e l'ente nazionale Sordi, Consiglio regionale dell'Umbria.